Siamo all'interno dell'ex ricovero Cappuccini come lo conosciamo spesso e lo citiamo spesso ad Altamura perché qui siamo nel vivo dei preparativi per il presepe vivente di Forti Smurgia e qui siamo alla seconda edizione in queste festività e si prepara per un grande evento la Forti Smurgia che non finisce mai di stupire e anche quest'anno ci saranno delle vere novità all'interno di questo presepe vivente. Sono con Giovanni Priore che è uno dei massimi vertici di Forti Smurgia e quindi può darci sicuramente qualche anticipazione anche perché ho letto che il tutto è all'insegno soprattutto della pace, partiamo da questo tema e poi voglio dire qualche anticipazione su quello che avverrà all'interno di questa location che ripeto siamo all'interno dell'ex ricovero i Cappuccini ad Altamura e quindi volevamo appunto carpire qualche novità oltre a darti il benvenuto ovviamente per questa intervista. Grazie del benvenuto. La novità? La novità la facciamo sempre come Fortis lavoriamo per la città di Altamura quindi speriamo di fare il meglio il top che diamo sempre, il nostro lavoro si sussegue da sempre praticamente sembra che non ci fermiamo mai a lavorare la Fortis è come se dire Altamura, la Fortis è tutto per Altamura quindi lavoriamo per voi, per tutti quanti voi e speriamo che ci venite a trovare vi divertite nel nostro contesto e il nostro grande lavoro che stiamo facendo. Quindi invitiamo tutta la cittadinanza anche a partecipare a questi preparativi e a partecipare proprio in maniera attiva con la Fortis Morgia come è capitato anche per Federicus e altri eventi quindi mi confermi che è tutto anche all'insegno della solidarietà e della pace? Sì sì è tutto per la pace, soprattutto per stare insieme insieme uniti sempre per uno scopo unico, per la pace la pace è unica, quindi se venite venite a trovarci e ci sarà pace, vi divertirete che ci saranno delle scene bellissime ci sono attori stupendi, favolosi, quindi venite a trovarci. Continuiamo il nostro viaggio all'insegna di questa sorta di backstage per il presepe vivente 2016 della Fortis Morgia e lo possiamo anche chiamare così con il nostro amico Carlo Camicia che adesso io chiedo, abbiamo chiesto a Giovanni Priore la caratteristica principale per questo appuntamento ma io volevo chiederti qual è la differenza tra questo nuovo presepe vivente 2016 con l'edizione precedente? Sì, dunque quest'anno la differenza rispetto a quella di due anni fa è un po' la professionalità, diciamo che abbiamo anche dei figuranti un po' più professionisti, anche gli allestimenti stiamo eseguendo degli allestimenti un po' più particolari anche per piacere molto più alle famiglie, ai bambini innanzitutto perché vedere un laghetto dove le lavandaie davvero lavano le rube o le pecore vanno ad abbeverare o vedere un mulino ad acqua che gira, che raccoglie l'acqua poi la ributta in questo ruscello il fabbro, il conciaio, tutti i mestieri dell'epoca ancora più vicino alle tradizioni vicino alle tradizioni poi l'altra differenza è avere un ingresso con un'uscita per non incontrarsi un po' tutta la gente dunque ognuno può guardare, può ammirare quello che noi stiamo facendo scusami, ho sentito di un'area dedicata l'altra cosa particolare è un'area dedicata alla filiera del pane dunque dalla ratura, dalla semina alla raccolta del grano alla lavorazione, alla macina del grano e per poi produrre il grano e i prodotti altamurani dove ci sarà anche un forno un forno che deve poi distribuire questo pano caldo alla gente che verrà a visitarci piccole pagnotte di pane però cose molto molto reali un incentivo in più per avvicinare un po' tutta la gente della zona ad avvisitarci o a vedere comunque posso assicurarvi noi della Fortis Murgia quello che facciamo lo facciamo quando più reale possibile e con tanta volontà e tanto amore e in questo quando c'è amore e volontà ci si riesce in tutto e si fanno le cose belle Continua il nostro viaggio all'interno di questo backstage se così, ripeto, possiamo chiamarlo per il presepe vivente 2016 della Fortis Murgia e sono qui con Pasqua La Terza e Lucia Mariano ho già chiesto, diciamo, ai vostri colleghi di Fortis Murgia altri aspetti per quanto riguarda questa preparazione e anche il fine di questo presepe di questa nuova edizione ma adesso voglio parlare con voi dell'aspetto religioso e c'è un'importante novità quest'anno perché si parlava di una casa di Maria un percorso di Maria diverso se ho capito bene Sì, perché non ci può essere un presepe senza anche un momento religioso da fare e da percorrere una strada che comincia con questa presenza di Maria che viene visitata dall'angelo e lei che accetta umilmente di diventare la mamma di Gesù e nonostante questo lei è ancora stupita comunque le parole dell'angelo la rassicurano perché anche sua cugina dice che aspetta un figlio nella sua tarda età e lei è così presa da questa commozione che va verso la casa di sua cugina che è lontana da Nazareth qualche chilometro Ora, lei va incontro a questa sua cugina e come ci dicono i Vangeli si vanno incontro l'un l'altra perché portano nel loro grembo due figure importanti nella vita Quindi è importante soprattutto la famiglia e il messaggio principale anche di questa edizione, giusto? Non ci può essere una famiglia se non c'è un papà e una mamma se non c'è una donna che accetta di vivere la maternità e quindi questo tema che abbiamo dato questo titolo che abbiamo dato a questo presipe 2016 la Fortis si intitola proprio la luce perché nella vita dell'uomo entra questa luce a rompere le tenebre di una umanità che cammina senza una meta sicura e poi c'è questa madre la madre la figura materna la femminilità tutta questa violenza che si sta addossando alla donna questo verrà ovviamente ripercorso poi durante tutto il tragitto che ci sarà anche all'esterno di questa sono dei quadri sono delle immagini sono dei momenti in cui ci si fermerà e la narrazione commenta quelli che sono i passi del Vangelo dalla visita di Maria a sua cugina Elisabetta al sogno di Giuseppe e quindi è un percorso un cammino che faremo fare ai visitatori in tutta tranquillità ma con una meditazione e una riflessione interiore personale se vogliamo adesso mi rivolgo direttamente a Lucia solo una domanda se vogliamo trovare solo una frase per incentivare anche alla partecipazione tanti altamurani quale sarebbe il tuo invito? Quello di innanzitutto venire nei giorni antecedenti l'evento e collaborare e quindi rendere partecipe anche diciamo parrocchie e quant'altro associazioni e quindi per rendere un po' più animato anche questo ambiente soprattutto il mondo anche del volontariato e quant'altro soprattutto sì sì invogliare più gente volontari sì sì siamo tutti volontari ok noi proseguiamo con il nostro viaggio ovviamente per fare tutto questo e per il presepe vivente 2016 è necessario avere delle vere maestranze all'interno di questo contesto e lo ripeto ancora siamo qui all'interno dell'ex ricovero cappuccini ad altamura per il presepe vivente della forte smorgia e quando si parla di maestranze qui c'è un vero maestro non a caso ti chiamano capo maestro l'ho sentito dire prima Donato Nini Vaggi poi ci abbiamo anche a fianco l'altro Donato Donato abbiamo parlato dell'aspetto religioso abbiamo parlato ovviamente di cose importanti però ecco l'aspetto strutturale di tutto il presepe è comunque affidato a te più che altro sì è curato da me con validi esperti scenografi registri registri per realizzare anzi per dare il meglio per il presepe si arriverà diciamo al giorno principale questo l'abbiamo detto è un backstage che noi stiamo curando però poi ritorneremo a vedere diciamo il lavoro tuo e dei tuoi collaboratori degli altri ultimato c'è qualcosa in particolare che vuoi segnalare di particolare tra le varie strutture forse la ruota se non vado errato sì c'è la ruota ci sono i portoni fatti nuovi per coprire il diciamo quello marcio e tante altre cose che non so se avete già ripreso tipo quelle porte lì sono state invecchiate da me fatte diciamo trasformate apposta sì per l'evento per l'evento e ovviamente ci vuole anche dal tempo da quanto tempo stai? noi stiamo dal 2 novembre quindi da più di un mese diciamo dietro questo e l'altro donato vuoi fare un invito alla cittadinanza? di venirci a visitarci e partecipare ovviamente grazie 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 grazie